Bene, allora in questo video parliamo di intelligenza artificiale che avanza. Noi pensavamo che l'intelligenza artificiale diventasse Terminator. In realtà è un Terminator ma anche artista e vedremo un po' meglio in questo video. Parleremo anche di questa tendenza woke inclusiva di molti progetti open source e anche BitTech. E parleremo anche un po' dell'aspetto di Bitcoin e religione visto che è successo qualcosa di abbastanza strano. Ovviamente questo è un video un pochino controverso quindi vi invito a commentare se volete e mi raccomando fate dei commenti civili perché altrimenti non vengono incluse da YouTube. E quindi direi di iniziare. Allora iniziamo subito con il discorso dell'intelligenza artificiale. Su X ci sono tantissimi video che mostrano appunto droni in zone di conflitto che vanno a colpire altri target e fanno cose. E ovviamente vi invito ad andare a approfondire il tema su X visto che ci sono tanti video che ovviamente non passano nel mainstream. Ovviamente non mi interessa una parte o l'altra. Di fatto ci sono anche video dove droni combattono contro carri comandati in remoto. Quindi può sembrare strano ma sembra quasi un videogioco però di fatto si tratta della realtà. E quindi sicuramente chi è che padro, vabbè, utilizzerà meglio l'intelligenza artificiale probabilmente in futuro avrà diciamo il controllo della della situazione. La cosa appunto è strana perché comunque un drone viene a costare molto meno di un carro e anche dal punto di vista della della ricerca probabilmente i droni hanno un impatto anche più efficace rispetto a tecnologie vecchie. E questo un po' si vede da tutte le parti. L'altra cosa è obiettivamente l'intelligenza artificiale. Anche quella open source, anche quella locale è arrivata a dei livelli abbastanza impressionanti. Si sente tanto parlare di Sora, di OpenAI, quindi l'intelligenza artificiale che converte un testo in video. Tuttavia esistono anche delle versioni open che non sono all'altezza ma non sono neanche così lontane. Questa è open Sora e qui avevo scritto un gatto che va sullo skate. E questo è il risultato, ovviamente vengono generati pochi secondi, è abbastanza coerente e si tratta appunto di un video corto. Questa cosa secondo me è l'ulteriore passo in avanti delle intelligenze artificiali generative. E appunto in futuro dicono che saranno generati interi film in questo modo, che adesso può sembrare strano, però con i passi da giganti che stanno avvenendo veramente di settimana in settimana, veramente questa cosa non la vedo neanche così tanto improbabile. Ovviamente Sora, quella di OpenAI, è più avanzata, tuttavia non si capisce come mai non la rilasciano, visto che hanno creato un prodotto e poi non lo mettono sul mercato. L'altra intelligenza artificiale che avevo citato, che secondo me è molto interessante, questo si chiama Local Search, con doppia L, vi permette di utilizzare l'intelligenza artificiale per prendere dati su internet e comporre la risposta. Non è ancora precisissima, poi dipende anche dal modello che utilizzate di intelligenza artificiale. Di fatto fa un qualcosa di simile a Perplexity, che è un altro progetto che era uscito. E qui avete tutto il log di quello che è accaduto, quindi in base alla richiesta che fate, cerca di individuare appunto dei passaggi da fare, quindi se utilizzare il modello locale LLM oppure se andare su internet a cercare informazioni. Come vedete va a prendere le informazioni da diversi siti internet, quindi questa cosa inevitabilmente cambierà anche il modo con il quale andremo a navigare su internet, a cercare le informazioni. Queste informazioni poi vengono messe in un database particolare, un VectorDB, e in base alle informazioni che ha raccolto, quindi dalle pagine internet, viene composta poi la risposta, che come dicevo non è proprio il massimo, però appunto vi genera un qualcosa che non esisteva in nessuno delle fonti dove ha preso i dati per dare la risposta. Quindi in questo caso ha generato una tabella markdown e qua sotto vi dà anche le fonti. Quindi questo è veramente interessante per fare comparazioni e cercare informazioni sul web e quindi anche, diciamo, se non siamo veramente motivati, magari le persone non andranno neanche più a vedere i siti web con questo sistema. Sempre sul discorso intelligenza artificiali, ne sono uscite alcune che sono molto interessanti, in particolare Command R+, e anche DBRX, non funzionano proprio su computer casalinghi come Mistral 7B, tuttavia hanno delle performance interessanti. In questo test che è uscito su X viene segnalato che questa Command R+, è in grado di fare RAG in modo migliore rispetto a tutte le altre. Non so quanto sia attendibile, sicuramente è un modello da tenere in considerazione, perché l'ho provato per altre cose, in effetti è molto fatto bene e organizza molto bene le informazioni. Come ho detto anche in altri video, non è importante quanto un'intelligenza artificiale sia veramente a conoscenza del mondo, perché alcune informazioni è meglio prenderle su internet fresche. Quindi il fatto che l'intelligenza artificiale abbia tanta conoscenza non è così importante se poi effettivamente gli diciamo di andarsi a prendere le informazioni su internet. Quindi diciamo che l'intelligenza è più importante della conoscenza in questo caso. Altra intelligenza artificiale da segnalare è questa, la Vag, e anche qua trovate il codice su GitHub e il demo. Questa intelligenza artificiale praticamente fa quello di interessante che fa il Rabbit R1, quindi data una serie di istruzioni, naviga sulle pagine web al posto vostro, quindi gli dite di cliccare, gli dite di compilare il form in un certo modo, di mettere per esempio nome e password. Quindi avete l'intelligenza artificiale locale che ha diciamo le informazioni sensibili e l'interazione che andate a fare su internet non è più un'interazione umana, ma è un'interazione dell'intelligenza artificiale. Quindi anche qua progetto molto interessante per arrivare subito al succo della risposta senza dover fare tanti passaggi all'interno di siti internet sempre più affollati di pubblicità e altre informazioni irrilevanti. E questo era il discorso sull'intelligenza artificiale. Adesso passiamo sul discorso che ho accennato in alcuni video corti che però secondo me anche qua sta esagerando, ovvero la questione di walk inclusiva di tanti progetti open source. Fa abbastanza effetto vedere come Mozilla, quindi quella che crea Firefox, che è uno dei browser più utilizzati su Linux, abbia secondo me perso un po' il focus. Cioè prima questa azienda era focalizzata su open source e privacy, adesso onestamente si mette a trattare altri temi che onestamente li vedo come abbastanza fuorvianti, come quello delle fake news, ovvero si preoccupa del fatto che WhatsApp non sta facendo abbastanza per fermare la disinformazione e discorsi d'odio. Questa cosa è abbastanza strana perché WhatsApp è un'applicazione di messaggistica privata, quindi in teoria a terzi non dovrebbe neanche interessare che cosa le persone si scrivono e vedere come un progetto del genere abbia spostato così il focus dalla privacy alla censura perché di fatto fake news e diciamo il contrastare le fake news si tratta di censura, quindi significa che un'entità decide al posto tuo se quello che stai leggendo è vero o falso e questa cosa appunto è abbastanza fastidiosa, tuttavia non è un qualcosa che c'è solo in Mozilla, anche in altri progetti diciamo privacy oriented open source sembra che la priorità sia andata altrove, per esempio anche Thor Project ultimamente è andato totalmente woke, quindi hanno fatto un tweet dove delle persone utilizzavano Thor per discutere di questioni woke, LGBT e tutte le altre sigle che sono cambiate nel tempo, se gli fai notare che questa cosa è un po' fuori luogo ti bloccano, quindi anche il progetto Thor che in teoria doveva proteggere la libertà d'espressione censura tranquillamente tutte le opinioni che comunque non sono opinioni tecniche, sono opinioni politiche diverse da quelle che vogliono spingere loro, quindi non basta usare Thor, devi anche usarlo come ti suggeriscono loro e questa cosa è abbastanza strana. Ovviamente il filone potrei continuare quasi all'infinito, però prima o poi qualcuno doveva farlo sto video, la questione woke l'abbiamo vista anche con Google e ci dicono anche che questa cosa non verrà risolta facilmente, quindi riconoscono che è un problema ma non tornano sui loro passi e in particolare questa era la notizia dove se tu chiedevi di fare delle persone della Germania soldati del 1943 uscivano fuori delle persone che avevano comunque una fisionomia che era totalmente antistorica e irrealistica e quindi è curioso come questa visione equa, egualitaria della storia poi alla fine vada a cambiarla, a travisarla e questa cosa secondo me è molto grave e molte aziende big tech sono andate su questa strada, quindi abbiamo Google, abbiamo Netflix e quant'altro, come se una questione storica si potesse mettere, diciamo, in discussione di nuovo perché in un determinato periodo storico le persone erano tutte di una determinata etnia e quindi loro ti suggeriscono delle immagini che sono totalmente fuorvianti, però sono inclusive perché hanno un'eguale partecipazione di etnie diverse da quelle che invece erano rappresentate in un certo momento storico. Questa cosa appunto è ancora attiva, nel senso che se voi andate su DuckDuckGo e cercate donna bianca felice, vi escono fuori delle persone di genere femminile bianche che sorridono. Questa cosa non accade su Google perché alla stessa parola donna bianca felice sono tutte quante accompagnate da altre persone che sono totalmente fuori luogo con la richiesta fatta e questa cosa io onestamente non mi interessa spiegarla, secondo me è più interessante la correttezza rispetto al fatto di rappresentare la realtà in modo più inclusivo, anche perché se iniziamo a travisare la storia per fare le cose più inclusive di fatto andiamo a dare delle informazioni fuorvianti. Questa cosa è brutta, sicuramente è un modo per Google e altre aziende di manipolare la percezione pubblica di determinate vicende, tuttavia se usate appunto DuckDuckGo o anche Yandex, quindi il motore di ricerca russo, queste cose appunto non accadono, quindi fateci caso come alcune informazioni che vi vengono date potrebbero non essere rappresentative di quello che chiedete o della realtà. Ovviamente dico chiaramente che non ho nulla, anzi per me la questione sessuale è giusto che rimanga privata, ci sono delle persone LGBT e mi fermo perché non so quanto continuare con questa sigla che cambia in continuazione, che fanno delle cose interessanti nel mondo tech, di fatto mi pare che la questione dovrebbe veramente rimanere privata, nel senso non vedo perché i propri gusti sessuali debbano essere un qualcosa che ti identificano in contesti tecnici totalmente fuori appunto dalla questione, nel senso perché andando di questo passo anche diciamo altri termini tecnici potrebbero cambiare così come è accaduto sul kernel Linux, quindi il fatto di rinominare tutti i termini informatici in modo che non ci sia più maschio, femmina o altre parole che per qualcuno potrebbero essere offensive, ma in realtà sono applicate a un contesto ben definito. E sempre sulla questione di genere si parla sempre che le donne nel mondo del lavoro vengono pagate meno degli uomini in certi contesti e quindi mi fa molto piacere che ci siano persone che si lamentano anche dell'opposto, che su Allnifufu i maschi vengono pagati meno delle femmine, quindi in realtà se la cosa esiste dipende comunque dal contesto, quindi ci sono differenze anatomiche e differenze magari anche psicologiche e il fatto che ci siano delle diversità fa parte appunto di come funziona la società perlomeno come è funzionata finora. E cambiando ancora discorso, parliamo di Bitcoin e religione, ovvero Bitcoin era nata come criptovaluta decentralizzata, tuttavia questo negozio online che permette di acquistare in cripto ha segnalato che nel mese di marzo 2024 la criptovaluta più utilizzata per fare acquisti, quindi pagamenti reali, quindi non transazioni per fare mixing o altre transazioni diciamo irrilevanti, è stata appunto Monero, nonostante che è stata delistata in multi exchange e la sua percentuale di utilizzo in questo negozio che comunque è abbastanza conosciuto è maggiore sia di Bitcoin ma anche di Bitcoin Lightning Network, quindi in realtà se Bitcoin è una religione ok, però dal punto di vista tecnico la questione di moneta digitale decentralizzata, quindi una sorta di moneta di internet di fatto è ancora una questione secondo me abbastanza aperta e vedremo appunto come si evolveranno le cose. Per concludere ancora intelligenza artificiale, ho caricato un altro video che magari non tutti hanno capito si chiama Crypto Vibrazioni, è la mia ultima canzone che vorrei presentare a Sanremo, ne sto scherzando è interessante, questa è un'intelligenza artificiale che si chiama Suno, non è un'intelligenza artificiale diciamo locale o open source tuttavia è veramente impressionante perché dato un prompt banale, uno a caso, una canzone disco anni 90 sulla criptovaluta Monero nel testo deve anche dire che non sono consigli finanziari e vi invito a sentire questo video per il risultato ottenuto secondo me è molto credibile e in particolare questa è la versione V3 di questa intelligenza artificiale e quindi vi permette di generare canzoni praticamente con un prompt, in alcuni casi potete anche specificare il testo altrimenti se lo inventa da zero ed è interessante vedere come appunto le intelligenze artificiali hanno raggiunto veramente una credibilità veramente impressionante grazie a tutti non sono così di finanziari non lo do non lo do non lo do non lo do